ok andiamo a creare il secondo effetto andiamo a creare file nuovo 585 per 315 gli diamo ok lo riempiamo sempre di nero e andiamo a creare un nuovo livello andiamo adesso a prendere il pennelli andiamo qui nei pennelli andiamo a prendere questo qui prima prendiamo la penna e andiamo a creare un onda in questo modo premiamo alta tornando sul livello ok adesso andiamo a prendere i pennelli andiamo a prendere questi pennelli questo pennello da di durezza al cento per cento andiamo in spaziatura eccolo qui andiamo in dinamica forme e ne ha mettere sempre che si fa più piccolo andiamo in dispersione mettiamo entrambi gli assi e facciamo così gli mettiamo un conteggio a tre e gli mettiamo variazione conteggio ok sulla dimensione gli andiamo a dare una dimensione vedete un po più piccola su dinamica form e del conteggio gli diamo uno perché le punte sono più piccole chiudiamo qui andiamo con la penna e andiamo qui tasto destro creiamo un nuovo livello e andiamo poi sulla penna qui tasto adesso traccia il tracciato e mettiamo simula la pressione come vedete ha creato questo andiamo a a duplicare questi cerchi e li andiamo a ingrandire e li mettiamo qui andiamo a creare un nuovo livello e andiamo sui cerchi e ne a mettere una punta un po più larga torniamo sulla penna e ne a fare tasto destro traccia il tracciato e gli diamo troviamo simula pressione e gli diamo ok e spostiamo vedete in questo modo ok andiamo sui tracciati e di selezioniamo in questo modo ora andiamo sul selezione livello 1 su quello di sotto e andiamo su filtro sfocatura e andiamo qui su campo sfoca andiamo qui in luce bokeh andiamo a abbassare la sfocatura e andiamo a mettere la sfocatura diaframma a 3 pixel fatto questo gli diamo ok andiamo adesso su quest'altro andiamo a duplicare il livello e andiamo su quello di sotto andiamo su filtro sfocatura campo sfoca e abbassiamo sempre vedete la sfocatura e andiamo a mettere luce bokeh e gli diamo ok andiamo sul livello 1 quindi i questi i cerchi più visibili di questi che stanno sotto andiamo su filtro sfocatura controllo sfocatura e andiamo vedete a sfogare questo andiamo sul file di sopra e andiamo a fare sfocatura filtro controllo sfocatura eccolo qui e lo facciamo un po più visibile duplichiamo questo e andiamo a fare quello di sotto un po più largo ecco qui torniamo su filtro sfocatura e andiamo a fare una sfocatura vedete un po più sfocatura fatto questo disattiviamo il livello sotto e andiamo a fare modifica definisci pennello predefinito e si chiamerà luce 2 ok eccolo qui andiamo a usare questo effetto andiamo a fare file nuovo e qui gli diamo carta internazionale il colore di bianco gli diamo di sfondo gli diamo ok riempiamo di nero andiamo a creare un file nuovo mettiamo il bianco in primo piano e abbiamo creato vedete e creiamo questi effetti di luce possiamo vedete ingrandirli andare a dargli una sfocatura creiamo un nuovo livello e andiamo a darlo in altro colore vedete creando questo effetto andiamo a creare un terzo effetto fascio luce 3 eccolo qui ingrandiamo riempimento gli diamo il bianco in questo caso andiamo a creare un file nuovo 585 per 315 gli diamo il colore sempre il bianco ok eccolo qui andiamo adesso a sui pennelli e andiamo a prendere sempre i pennelli e adesso i pennelli della punta sfogata rimpiccioliamo la dimensione andiamo qui nella parte dei sempre dei pennelli e andiamo a mettere tanto spazio andiamo su dinamica forme eccolo qui lo mettiamo al 100% su dispersione eliminiamo togli entrambi gli assi e creiamo vedete queste luci che stanno vicino andiamo a aumentare il conteggio e mettiamo tutto 72 creiamo un nuovo livello prendiamo la penna e andiamo a creare una curva un po più larga torniamo qua e premiamo alt e disattiviamo mettiamo il nero in primo piano e qui andiamo a fare tasto destro traccia il tracciato e mettiamo simula la pressione eccolo qui duplichiamo in questo modo eccolo qui vedete andiamo sul filtro effetto movimento e gli diamo ok duplichiamo il livello questo qui più grande e lo ingrandiamo e lo vediamo in questo modo andiamo ok ingrandiamo creiamo un nuovo livello andiamo qui nello strumento forme personali e andiamo a prendere come forma personale una stella eccola qui pimento nero andiamo su filtro sfogatura controllo sfogatura e andiamo a metterlo a 3,23 andiamo a creare queste stelle in questo modo rimpiccioliamo premendo alt e shift duplichiamo queste stelle ingrandiamo la stella e la andiamo a inserire qui duplichiamo la mettiamo soprattutto e andiamo a inserirla qui duplichiamo e andiamo a inserirlo qua duplichiamo anche questa andiamo a duplicare questa ed ecco qui andiamo a fare disattiviamo il livello sotto ci andiamo prima di tutto a selezionare tutto e cerchiamo di rimpicciolite premendo shift e alt tutto quanto in modo che all'interno del disegno del file c'è tutto andiamo su modifica definisci il pannello predefinito e lo chiamiamo luce 3 andiamo a prendere la foto nuova questa foto e prendiamo questo andiamo a creare un file nuovo mettiamo come primo colore un giallo ingrandiamo vedete in questo modo e creiamo vedete questo effetto in questo modo andiamo qui e andiamo a mettere scolora metodo di fusione scolora spero che questo tutorial vi sia piaciuto se non vi siete iscritti iscrivetevi ci vediamo al prossimo tutorial grazie e ciao a tutti grazie grazie